Allora, questa sera il Comitato Interfedi, che ho l'onore di presiedere, presenterà questo momento di riflessione dal titolo La verità e le verità. Entreremo poi fra poco nel merito di questo percorso. L'organizzazione dell'incontro prevede che ci siano tre terne di interventi di 7-8 minuti ciascuno intervallate da intermezzi musicali per i quali io devo ringraziare Giacomo Berruti al violoncello e Renata Saranella al pianoforte, che ci intratterranno con tre pezzi di Schumann. Il primo, che sarà eseguito tra un attimo appena io finisco di parlare, che ha come titolo Tenero e con espressione, poi il secondo Veloce e Luminoso, il terzo Allegro con Fuoco. Sono tre momenti che vogliono, come dire, essere una metafora delle sensazioni di un viaggio alla ricerca della verità. Un primo momento di tranquillità e di pace, un secondo di apprensione per gli imprevisti e poi le vicende della vita che creano problemi e difficoltà. Concluderanno la nostra serata con un pezzo di Saint Saint, il cigno. Vi raccomando di stare molto attenti al gioco tra i due strumenti, perché avrete da una parte le quartine del violoncello che segnalano questo passo, questo ritmo dei movimenti del cigno e invece il pianoforte che ne esprimerà la regalità. Allora cominciamo, a voi la scena. Grazie. 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 Più che mai in questo tempo di complessità e di guerre, le persone sono come viandanti alla ricerca del senso dell'esistenza. La ricerca di senso è un'esigenza profonda dell'essere umano, un'esigenza che, non soddisfatta, si manifesta anche come crisi esistenziale. Questa ricerca può avere forme diverse, a seconda delle esperienze personali e della sensibilità di ciascuno. Da sempre, nella storia del genere umano, le religioni hanno rappresentato una possibile risposta a questa ricerca. Intendiamoci non che sia obbligatorio aderire ad una religione, ma comunque questa opzione è stata ed è praticata da molti. La nostra Costituzione tutela questo diritto, sia individuale che sociale, da esercitare anche pubblicamente, nello spazio laico delle istituzioni. Ogni religione propone una sua verità sul senso dell'esistenza, ma purtroppo, nella storia, le diverse verità sono anche entrate in conflitto ad opera degli uomini che le rappresentavano, con la pretesa, spesso, da parte degli uni, di imporle anche agli altri. Il nostro Comitato Interfedi, organismo consultivo della città di Torino, è nato per promuovere il dialogo interreligioso nella nostra comunità locale, che è ormai, come sapete, una comunità multietnica e multireligiosa. Siamo tutti impegnati a costruire insieme valori condivisi di convivenza civile nel quadro dei valori fondanti della nostra Costituzione. Siamo animati dalla consapevolezza che nessuno possiede tutta la verità e che siamo in cammino alla scoperta di frammenti di verità che altri potrebbero avere già trovato. Con questo spirito di dialogo vi proponiamo questo incontro di oggi, che non sarà un'esposizione di teologie diverse. Ognuna tradizione religiosa qui rappresentata, saranno i nove gli interventi, racconterà invece un esempio di percorso di ricerca di senso che può lasciare una traccia anche per ciascuno di noi. Buon ascolto quindi, e io chiamo subito qui Idris Bergia, che rappresenta la comunità musulmana. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, che la pace del Signore sia su tutti voi. Abubakr al-Shibli, un santo musulmano di Baghdad nato nell'anno 861 e morto nel 945, era un discepolo di uno dei più grandi maestri di quell'epoca, Junaid. Le sue poesie e i suoi aforismi sono tra le più altre espressioni della letteratura spirituale islamica. Vi leggo uno dei suoi testi poetici, breve. Era il giorno del giudizio, volavo come un uccello sotto le arcate del ponte, poi arriva il richiamo dell'inferno. O Shibli, voglio riavere la mia parte del tuo essere. Prendi quello che vuoi, dissi, voglio le tue mani, prendile, le tue gambe, prendi, i tuoi occhi, ecco qui, il tuo cuore, sì, ma la voce di Dio discese su di me. O Shibli, sii generoso solo con ciò che ti appartiene e non con ciò che non ti appartiene. Il cuore è mio. Ecco perché il cuore è meglio di mille e una parole eccellenti. Questo mondo è dolore, l'altro mondo è beato, ma il cuore è il luogo della vera conoscenza mistica. Questo breve testo ci parla in forma simbolica e poetica di molti aspetti della natura umana e anche delle possibilità spirituali che all'hai Dio gli ha donato. La parte corporea dell'uomo, creata di terra, sembra assumere nel breve racconto di Shibli una scarsa importanza. Il maestro lascia con facilità agli inferi, mani, gambe e occhi, parti del corpo materiale. Si possono dare molte interpretazioni a questo fatto. Ad esempio lo potremmo interpretare come una forma di ascetismo particolarmente rigoroso, di un abbandono totale del corpo. Ma tali forme estreme di rinuncia sono state praticate solo da pochi santi musulmani e rappresentano più un'eccezione che non la regola. Regola che prevede invece anche per chi aspira alla conoscenza spirituale di avere una famiglia, di lavorare, di essere inserito nella vita del proprio tempo, per sintetizzare potremmo dire che la vita è maestra, come amava ripetere sovente lo Sheikh Abdelwakid Pallavicini, guida spirituale e fondatore della Coreis, di cui io sono il segretario generale italiano. Questo abbandono del corpo potremmo piuttosto interpretarlo come la necessità di non concentrarsi sul lato più materiale dell'uomo che oggi è estremamente enfatizzato e porta molti uomini e donne a concentrarsi sul corpo, sulla sua estetica, sulle sue necessità e anche sovente sui suoi vizi, mentre la voce di Dio richiama il fatto che questo mondo è dolore e l'altro mondo è beato. È un richiamo per i credenti ad evitare l'attaccamento al piano materiale dell'esistenza che porta, come inevitabile conseguenza, a gustare il lato doloroso della vita. O Shibli, sii generoso solo con ciò che ti appartiene e non con ciò che non ti appartiene. Il cuore è mio, gli dice Dio. Il corpo fatto di terra è mortale, limitato, tutt'altro che perfetto, ma questo corpo sostiene il cuore, cuore che è il centro dell'uomo. E come ci dice Allan nel testo, il cuore è mio. E quando il cuore sede dello spirito di Dio e non le punzioni fisiche a guidare le azioni dell'uomo, se Dio vuole, l'uomo può ricercare la salvezza dell'anima e la conoscenza di Dio. Il Sacro Corano esplicita a questo proposito nella suratatin, la suratatin, la sura del fico, come Allah abbia ordinato la creazione dell'uomo nel migliore statuto della forma, realizzando la stabilità della sintesi superiore e dell'equilibrio pacificato dei temperamenti, ma Allah ha anche disposto che l'uomo possa cadere al livello più inferiore, il livello dell'abisso delle forme della creazione, nella prigione della natura oscura e oscurata dalla luce delle virtù. Eccetto per coloro, ci richiama il Sacro Corano, che credono e che operano nel bene. Il testo del Maestro si chiude con questa frase, Ma il cuore è il luogo della vera conoscenza mistica. Parole che riecheggiano quella di un celebre adit, un detto del profeta Muhammad, su di lui la pace, in cui Allah stesso parla attraverso di lui e recita «La mia terra e il mio cielo non possono contenermi, ma il cuore del mio servo fedele può contenermi». Per alcuni vocati all'estinzione in Dio, dopo essersi elevati dalla fangosità del corpo, con i suoi limiti e i suoi difetti, superati i condizionamenti dell'anima, «Vi è, al di là dei paradisi di Allah, il luogo della conoscenza spirituale. Vi è il cuore dove dimora lo spirito, dove lo spirito di Allah riconosce se stesso, senza più veli, e l'uomo si estingue nella perfetta luce del suo Signore». Vi ringrazio di aver ascoltato queste brevi parole di questo grande maestro di molti secoli fa e che penso sia esemplificativo della via che qualcuno può percorrere chi ha un'intenzione verso la conoscenza, ma anche per chi semplicemente ha intenzione di salvare la propria anima, per chi ci crede. Grazie a tutti voi e spero che questa serata sia per tutti noi un accrescimento di conoscenza. Grazie ancora. Padre Cristian Vasilescu della Chiesa Ortodossa Io ho pensato di presentarvi la vita e alcuni elementi fondamentali di un santo della Chiesa Ortodossa, Simeone, poi diventato monaco, San Silvano del Monte Athos. Simeone, figlio di Ivan Atonovov, contadino della provincia di Tambov, nasce nel 1876 nel volaggio di Kovchok. La famiglia è numerosa, compresa padre e madre, cinque figli e due figlie. È una famiglia semplice, profondamente religiosa. Il padre è analfabeta, ma una fede profonda ne rischiara l'intera vita. Così dirà di lui Silvano, Da mio padre ho imparato a non affliggermi per la perita dei beni materiali e a confidare sempre nel Signore. Quando in casa sopraggiungeva una contrarietà, il suo cuore non si turbava. Dopo un incendio che gli aveva distrutto ogni cosa, non si disperò, ma ripeteva con fiducia, il Signore farà in modo che tutto si rimetta a posto. Una volta passavamo vicino al nostro campo e io gli dissi, guarda, ci rubano il raccolto. Ma egli mi rispose, figlio mio, il Signore ci ha mai fatto mancare il pane? Se quell'uomo ruba è perché ne ha bisogno. Un'altra volta gli dissi, tu fai sempre lemosine, ma altri più ricchi di noi danno molto meno. Ma egli rispose, figlio mio, il Signore ci dà il necessario. Come molti contadini del suo paese amava offrire ospitalità ai mercanti, ai viandanti, soprattutto ai pellegrini che percorrono l'immenso territorio russo. Così, un giorno di festa, invitò a casa sua un venditore ambulante di libri nella speranza di imparare qualcosa di nuovo. Il piccolo Simeone non ha ancora quattro anni, però segue la conversazione con attenzione. L'ospite a cui è stato offerto del tè e qualcosa da mangiare, cerca di provare che Cristo non è Dio e addirittura che Dio non esiste. Il bambino resta colpito in particolare da queste parole dove è dunque questo Dio e pensa quando sarò grande andrò a cercare Dio per tutta la terra. Passano gli anni e Simone diventa un giovanotto alto e vigoroso. Ha 19 anni quando in una maniera semplicissima trova la risposta al dubbio che gli è rimasta così a lungo annidata nel profondo del cuore. Sta lavorando insieme con un fratello come carpentiere ad alcune costruzioni. La cuoca del cantiere ritorna da un pellegrinaggio fatta alla tomba di un celebre asceta e racconta la vita di quel recluso e i miracoli che hanno avuto luogo nella sua tomba. Le parole vengono confermate da alcuni anziani. Allora Simone pensa se è santo significa che Dio è con noi e allora io non ho bisogno di percorrere tutta la terra per trovarlo. Ed ecco che a questo pensiero il suo giovane cuore si infiamma di amore per Dio. Simone ha trovato la fede. Pensa incessantemente a Dio e prega molto versando lacrime. Avverta in sé un cambiamento interiore e si sente attratto dalla vita monastica. ma suo padre gli niega il permesso di recarsi al monastero delle grotte a Kiev. Fai prima il servizio militare poi sarai libero di andarci. Quello straordinario stato spirituale dura però solo tre mesi. Dopodiché Simone si mette a vivere come tutti gli altri giovani del paese. Esce con le ragazze suona la fisarmonica beve vodka anche se tutto il villaggio ammira quel bel giovane dal carattere amabile che semina la gioia attorno a sé egli ancora ben lontano dall'essere un santo. Già a questa età è dotato di quella robustezza e di quella straordinaria forza fisica che gli permetteranno di compiere certi ascesi fuori dal comune sia per qualità che per quantità. Questa forza fisica tuttavia sarà la causa del suo più grave peccato per il quale farà una grande penitenza. È il pomeriggio della festa parrocchiare del paese tutti i paesani sono usciti dalle loro case in un'atmosfera gioiosa Simeone passeggia per la strada con un compagno e suona la fisarmonica. Vengono loro incontro due fratelli i calzolai del paese di cui il maggiore un tipo grande forte e attacca brighe è un po' sbronzo giunta alla loro altezza così tenta di impadronirsi della fisarmonica ma Simeone riesce a passarla all'amico e invita il calzolai a continuare per la sua strada ma questi volendoli indubbiamente far la figura del più forte dinanzi a tutto il paese infatti già le ragazze cominciano a ridere avanza verso Simeone con un tono minaccioso Simeone è propenso a cedere poi d'un tratto è preso dalla vergogna al pensiero che le ragazze lo prenderanno in giro e colpisce con violenza il suo antagonista al petto il calzolaio viene scagliato lontano e cade pesantemente sulla schiena in mezzo alla strada sangue e bavo agli coloro dalla bocca tutti sono presi dallo spavento soprattutto Simeone che pensa l'ho ucciso e resta lì immobile la gente accorre e si prende cura del ferito che resta riverso sulla strada dopo mezz'ora riesce a rialzarsi e a fatica è riportato a casa ne avrà per due mesi ma fortunatamente rimarrà in vita come spesso avviene la prima chiamata di Dio alla vita monastica si sta affievolindo nell'anima di Simeone il Signore allora lo chiama di nuovo mediante una visione dopo un certo periodo trascorso nell'impurità mentre sta assopito in un sonno leggero vede un serpente insinuargli si in bocca e penetrargli nel corpo si risveglia in preda a un violento disgusto e subito ode una voce di straordinaria bellezza e dolcezza hai un goiato un serpente in sogno e questo ti ripugna allo stesso modo neppure a me piace vedere quello che tu fai fortemente scosso Simeone ha subito la profonda convinzione che quella sia la voce della Santa Vergine fino alla fine dei suoi giorni e gli renderà grazie alla Madre di Dio per essere degnata di visitarlo e di rialzarlo dalla caduta ora ho visto quanto il Signore e la Madre di Dio hanno pietà degli uomini questa seconda chiamata che è intervenuta poco prima dell'inizio del servizio militare ha un'importanza decisiva nella scelta di vita che ormai sta per intraprendere la vita che aveva preso una brutta piega conosce a questo punto un mutamento radicale Simeone prova una profonda vergogna per il proprio passato e inizia un cammino di pentimento pieno di ardore un senso acuto del peccato si risveglia in lui cambiano anche i rapporti e le sue conversazioni con gli altri chiedo scusa ho cercato di tagliare la sintesi che avevo fatto già terminato il servizio militale egli realizza il suo desiderio e nell'autunno del 1892 giunge al Monte Athos San Panteleimon il monastero dei Russi o Russicon che accoglie Simeone è una comunità cenobitica che conta in quel momento duemila monaci su una popolazione di circa novemila persone subito dopo il suo arrivo il giovane postulante fa alcuni giorni di ritiro al fine di riportare alla memoria tutti i peccati commessi a notarli e poi confessarli gli arde nell'anima un bruciante pentimento fa una confessione sincera senza nessun tentativo di autogiustificazione il padro confessore gli dice hai confessato i tuoi peccati dinanzi a Dio sappi che ti sono perdonati tutti inizia da questo momento una vita nuova vai in pace e si nella gioia perché il Signore ti ha condotto in un porto di salvezza Simone scopre con stupore la preghiera di Gesù l'invocazione ripetuta con l'ausilio di un rosario nel nome del Santo nel nome Santo Signore Gesù Cristo Figlio di Dio abbi pietà di me peccatore non solo costituisce l'essenziale della preghiera neincella ma può essere recitata sempre e ovunque persino sostituire gli uffici sono trascorse appena tre settimane quando una sera mentre in preghiera dinanzi all'icona della madre di Dio la preghiera irrompe improvvisamente nel suo cuore e si fa sorgente zampillante giorno e notte certo nella sua inesperienza non comprende allora la rarità del dono ricevuto della madre di Dio doni che tanti asceti ottengono solamente dopo anni e anni di lotta e questo dono della preghiera del cuore che permette di giungere alla preghiera pura alla preghiera spirituale ben presto Simeone è preso dai pensieri di vanità da dubbi sulla propria salvezza e l'angoscia si insinua nel suo cuore allora cominciano ad apparire gli demoni che ora lo esaltano ora lo precipitano nell'abisso ed egli parla loro con ingenuità come si parla agli uomini e da uno di loro si sente rispondere noi non diciamo mai la verità passano i mesi egli continua a lottare ma le forze psichiche vengono a mancargli e il coraggio l'abbandona sempre più spesso la sua anima invasa dall'orrore e dalla disperazione come resistere a tutti quegli assalti con le semplici forze umane e fratello Simeone crolla scusa Simeone è nella sua cela nel tardo pomeriggio prima dei vespri e verso l'anno 1906 nel corso in ogni una di quelle notte terribili non è in grado nonostante i suoi sforzi di pervenire alla preghiera pura si alza per fare alcune prostrazioni l'immenso profilo di un demonio si frappone davanti alle icone e attende che egli si inchini dinanzi a lui Silvano si siede di nuovo china la testa con il cuore addolorato e fa questa preghiera signore vedi che i demoni mi impediscono di pregare con uno spirito puro ispirami ciò che devo fare perché i demoni mi lasciano in pace e nell'anima il signore gli risponde le anime orgogliose soffrono sempre a causa dei demoni signore insegnami che cosa devo fare perché la mia anima diventi umile e di nuovo nel cuore riceve questa risposta tieni il tuo spirito agli inferi e non disperare e subito comincia a mettere in pratica quella parola trova la pace e lo spirito gli testimonia la salvezza i lunghi anni di lotta spirituale confortata dalle ripetute effusioni dello spirito santo lo conducono a diventare un autentico teologo il suo essere uomo di preghiera che dialoga con Dio lo rende capaci di parlare di Dio così quel poco che dice e scrive penetra i cuori e rigenera le anime d'ora in poi Silvano il monaco concentra tutte le forze dell'anima ad acquisire l'umiltà di Cristo e si effonde in necessanti preghiere per la salvezza degli uomini dice la mia anima conosce la misericordia del Signore per l'uomo peccatore tutti noi peccatori saremo salvati neppure una sola anima andrà perduta se si converte ma come può un monaco isolato dal mondo su quella santa montagna avere nella propria preghiera la sollecitudine per la salvezza di tutti gli uomini certi monaci del suo monastero sostenevano allora come tante religiosi anche al giorno d'oggi che è necessaria la lettura dei giornali che essa alimenta la preghiera per gli uomini Silvano risponde loro che egli non legge mai i giornali che essi offuscano lo spirito e fanno ostacolo alla preghiera pura a coloro che vi cercano delle intenzioni di preghiera egli ribatte che i giornali non informano sugli uomini bensì sui fatti e che una sola cosa è necessaria a tutti gli uomini e prega ardentemente e lungamente ogni giorno con lacrime ti prego Signore misericordioso fa che tutti i popoli della terra ti conoscano attraverso il tuo santo spirito in realtà Silvano coltiva in modo particolare l'umiltà e ricerca al di sopra di ogni altra cosa l'umiltà di Cristo in risposta alla parola del Signore che non cessa di mettere in pratica tieni il tuo spirito agli inferi e non disperare egli può dire è dal Signore che la mia anima ha imparato l'umiltà nessuna parola sarebbe in grado di descrivere quanto è buono il Signore non contraddice mai nessuno mai giudica se gli si fa opposizione se vede che non viene capito ciò che vuol dire subito fa silenzio viene criticato un padre davanti a lui egli ne prende le difese e riporta la pace possiede la vera libertà di chi dimora costantemente in Dio certo alcuni padri si inquietano per la libertà con cui parla di Dio come del padre suo misericordioso succede anche che altri nutano nel cuore sentimenti di invidia nei confronti della santità di Silvano la rettitudine dei perfetti dà fastidio ai negligenti e in effetti la sua sobrietà in ogni cosa può ingenerare una cattiva conoscenza in coloro che non praticano la sua astinenza il criterio che Silvano usa per discernere la volontà di un'azione di una semplicità disarmante ogni azione che non può essere preceduta da una preghiera è meglio non farla il vescovo santo Nicola Velimirovic che ha dato inizio al grande movimento di rinnovamento spirituale all'interno della chiesa ortodossa serba in questo nostro secolo nella sua rivista missionaria ha scritto un necrologio del titolo un uomo dall'amore grande così annotava di questo monaco meraviglioso si può dire una sola cosa era un'anima piena di dolcezza e non solo il solo ad aver sperimentato quella dolcezza ogni pellegrino del monte Athos che l'aveva incontrato provava la medesima sensazione Silvano era un uomo forte alto di statura aveva una grande barba nera e a prima vista il suo aspetto esteriore non lo rendeva particolarmente attraente a chi non lo conosceva ma bastava una sola conversazione per amare quell'uomo parlava dell'immenso amore di Dio per gli uomini e portava i peccatori a giudicare se stessi con severità quella scelta mirabile era un semplice monaco ma pieno di amore per Dio e per il prossimo da ogni parte della santa montagna correvano lui monaci in grande numero per ricevere consigli tutti sono stati dolorosamente colpiti dalla sua dipartita a lungo molto a lungo si ricordenano dell'amore del padre Silvano e dei suoi saggi consigli anche a me dice il santo vescovo il padre Silvano è stato di grandissimo aiuto spirituale sentivo chiaramente quanto la sua preghiera mi fortificasse ogni volta che mi recavo alla santa montagna mi affrettavo a fargli visita il libro della sua vita è tutto adorno delle perle della sapienza e dell'oro dell'amore è un libro immenso e incorruttibile Silvano era totalmente preso dalla visione della divinità di Cristo e dalla dolcezza dello Spirito Santo e faceva passare questa visione nella propria vita lo Spirito Santo lo rese davvero somigliante al Cristo che gli era concesso di vedere di questa somiglianza egli parlava molto spesso citando il grande apostolo dell'amore San Paolo apostolo saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è grazie Walter Nuzzo della Soka Gakai buonasera a tutti riflettendo sul titolo di questa serata in cammino verso la verità ho cercato di nello scegliere il brano da condividere insieme ho pensato a che cosa ho fatto io nella mia vita fino adesso e rendendomi conto che in realtà la vita è un viaggio uno splendido viaggio per cercare un senso per capire come mai siamo venuti al mondo per capire che cosa possiamo fare per alleviare un pochino le sofferenze che vediamo intorno a noi anche se certe volte ci facciamo distrarre ci facciamo distrarre perché quando ci capitano delle disgrazie quando ci capitano delle sofferenze tendiamo a farci distrarre ovviamente pensiamo di non essere adeguati di non averle forze pensiamo di essere per esempio sui problemi ai quali accennava il presidente Castellani nella sua introduzione pensiamo di essere troppo piccoli rispetto a certi problemi internazionali dei quali dei quali siamo quasi impotenti testimoni e pensiamo io cosa posso fare in realtà il buddismo insegna che ciascuno di noi è perfettamente dotato cioè ha questa natura pura incontaminata che si chiama stato vitale del Buddha e insegna a tutti gli esseri umani quindi a ciascuno di noi che hanno la possibilità di ottenere questa condizione vitale in particolare il Buddha Shakyamuni ha propagato questo insegnamento che si chiama Sutra del Lotto che ho portato stasera e del quale vorrei condividere con voi un piccolissimo brano che proprio testimonia questo cammino che ciascuno di noi fa nella propria esistenza e lui dice sappiate o monaci che il Buddha con i suoi espedienti percepisce profondamente la natura degli esseri viventi e gli sa quanto le loro menti si compiacciano di dottrine inferiori e quanto profondamente siano attaccati ai cinque desideri di conseguenza per loro egli predica il Nirvana in modo tale che queste persone udendolo possano credere in esso ed accettarlo e qua inizia con questa splendida parabola che se ci riflettete un attimo è lo specchio di ciascuno di noi sentite che cosa dice supponiamo che in un luogo deserto e selvaggio veramente spaventoso vi sia una strada lunga ardua e pericolosa e supponiamo che vi sia un numeroso gruppo di persone che voglia percorrere questa strada per raggiungere un luogo in cui sono costuditi preziosi tesori essi hanno una guida dotata di vasta saggezza e acuta comprensione che è perfettamente a proprio agio su questa strada ripida conosce la disposizione dei passaggi e delle strettoie ed è preparata a condurre il gruppo di persone e ad accompagnarle lungo questo irto cammino il gruppo che gli guida dopo aver percorso un certo tratto di strada comincia a scoraggiarsi e lo interpella dicendo siamo completamente esausti eppure spaventati non ce la facciamo a proseguire oltre dato che resta ancora una lunga distanza da percorrere ora preferiremmo tornare indietro la guida un uomo dotato di molte risorse pensa dentro di sé che peccato che rinuncino a molti rari tesori che stanno cercando e ora desiderino tornare indietro dopo aver così riflettuto ricorre al potere degli espedienti e quando avevano già percorso un buon tratto della difficile via fa apparire d'incanto una città egli dice al gruppo non abbiate paura non dovete tornare indietro perché ora c'è una grande città in cui potete fermarvi per riposare e fare ciò che più vi piace se entrerete in questa città vi troverete a vostro agio e vi sentirete tranquilli più tardi se ve la sentirete di proseguire fino al luogo dei tesori potrete lasciare la città allora i membri del gruppo completamente sfiniti provano un'immensa gioia e apprezzando la fortuna inaspettata esclamano finalmente potremo allontanarci da questa strada terribile e trovare un po' di quiete e serenità le persone del gruppo allora si affrettano ed entrano nella città dove essendo al sicuro dalle difficoltà si sentono completamente serene e a loro agio a quel tempo la guida intuendo che le persone si sono riposate non sono più stanche e spaventate fa svanire la città fantasma e dice al gruppo ora dovete ripartire il luogo dei tesori non è lontano la grande città di poco fa non era altro che un miraggio che ho evocato per farvi riposare allora questa parabola alla quale io sono veramente molto personalmente affezionato è la rappresentazione di ciascuno di noi perché ciascuno di noi arriva a un punto della vita in cui si sente stanco si sente scoraggiato e allora c'è la necessità di qualche buon amico che lo consigli no? e che faccia apparire la città fantasma che può avere mille forme per poi proseguire il proprio cammino e la propria mission e perseguire la propria missione in esistenza allo stesso modo ciascuno di noi qualche volta rappresenta la guida perché magari incoraggia qualche amico o qualche parente che è scoraggiato e questo principio nel buddismo è illustrato da questa massima che quando accendi una lanterna per un altro sta illuminando il tuo stesso cammino grazie a tutti grazie 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 allora adesso riposiamoci con Schumann veloce e luminoso grazie a tutti 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 veronica russo chiesa cattolica buonasera a tutti grazie 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 a tutti un uomo che ha saputo ha cercato tutta la sua vita la verità l'ha trovata nella fede cattolica ma che ha saputo nello stesso tempo eh eh accettare e rispettare profondamente le verità altrui. Un personaggio eclettico ed un monaco esemplare vissuto nella prima metà del Novecento tra le due guerre mondiali negli Stati Uniti ed autore di oltre 60 trassaggi e opere in poesia e in prosa dedicati soprattutto ai temi dell'ecomunismo, del dialogo interreligioso e della pace. E' stato un pioniere in questo. La strada che lo ha portato all'apertura, al dialogo con le altre religioni è stata proprio la vita monastica che lui ha scelto di abbracciare dopo aver avuto una giovinezza molto movimentata, in certi tratti anche dissoluta. Infatti era figlio di artisti e rimasto orfano di madre e da bambino ha seguito il padre pittore tra Stati Uniti, Francia ed Inghilterra. Merton ha da sempre vissuto il confronto con l'alterità quindi e sicuramente il suo vissuto ha influito sulla sua attitudine al dialogo e all'incontro e anche l'aver vissuto le guerre sicuramente lo ha aiutato a voler perseguire la pace. Aveva una profonda fede cattolica alla quale ha prodato da adulto, forti aspirazioni eremitiche ed il grande dono della scrittura che ha messo al servizio dell'umanità del suo tempo affinché il cammino di ogni cristiano potesse diventare sempre più splendente agli occhi di Dio. Oltre ad essere monaco quindi Thomas Merton è stato un uomo di dialogo, un profeta, uno scrittore ed un intenso poeta. A questo punto lascerò la parola proprio a padre Luis, così era conosciuto nel monastero del Gezzemani, che come solo lui sapeva fare si presenta al giovane lettore e anche a noi tutti qua questa sera. Per darti una veloce presentazione dei fatti salienti della mia vita ti dico, mio caro amico o amica, che sono nato in Francia, a Prade, un piccolo paese dei Pirenei. Nel 1915, e più precisamente il 31 gennaio, sotto il segno dell'acquario, ho studiato a New York, in Francia, in Inghilterra e alle Bermuda. Ho frequentato il college a Cambridge e l'università alla Columbia in America. Ho insegnato alla Columbia University e anche alla San Buonaventura, sempre materie letterarie. Nel 1941 sono entrato nella congregazione dei Cistercensi, della Stretta Osservanza, comunemente conosciuti come Trappisti, e questo l'ho fatto chiedendo ai monaci dell'abbazia del Gezzemani, nel Kentucky, di accogliermi. E così ho vissuto lì tutta la mia vita. Sono stato ordinato sacerdote nel 1949. Nel monastero ho ricoperto diversi ruoli, oltre a cercare di vivere da monaco, come e con tutti gli altri miei confratelli, e cioè maestro degli studenti e maestro dei novizi, che vuol dire cercare di aiutare i giovani che si accostano alla vita monastica, prima nella scelta di professare i voti religiosi, e poi per continuare una formazione spirituale e monastica, oltre che di vita della Chiesa, in modo da approfondire sempre più, per quanto possibile, il dono della vocazione a cui si è stati chiamati da Dio a vivere nella quotidianità, di questa stupenda vita. Tanti mi chiedono, e probabilmente anche tu lo farai, perché sono venuto in monastero, e cosa voglia dire per me la vita contemplativa e il vivere da cristiano? La mia risposta è sempre la stessa. Cercare la verità e cercare Dio. Questo significa cercare di capire e trovare il vero significato della mia vita e il mio posto all'interno della creazione di Dio. significa, inoltre, rinunciare a ciò che per me può essere una sorta di illusione, confusione e distrazione. Questo è per me. Forse anche per te. Non voglio criticare nessuno che cerca la verità altrove. L'importante è che questa verità venga cercata. Ci sono molte vie per arrivare a Dio e questa è la mia. A me sembra l'unica ed è quella che ho scelto e accettato come volere di Dio per me. Voglio dirti anche che ho ricevuto da Dio tre doni per i quali non sarò mai riconoscente a sufficienza verso di Lui e sono la mia fede cattolica, la mia vocazione monastica, la chiamata ad essere scrittore, poeta e condividere questa con tutti quelli che mi leggono e danno la pazienza di farlo. E tu? Hai identificato i doni che ti ha fatto il buon Dio? Non mi sono mai pentito di essere monaco da quando sono arrivato al Gezzemani, ma spesso ho desiderato e pensato che mi sarebbe piaciuto vivere una vita un po' più in solitudine. Penso che la solitudine e il silenzio siano molto importanti e che purtroppo vengano dimenticati nella vita dell'uomo moderno un po' troppo facilmente. Per questo voglio parlarti e domandarti cosa ne pensi della solitudine e del silenzio? Alcuni pensano sia solo un poeta e che assomiglio poco al sacerdote come normalmente lo si intende. Ma se tu avrai pazienza, potrai giudicarmi anche dalle mie poesie. Allora, valuterai da te se sono stato solo un poeta o anche un buon prete e monaco perché la poesia per me è sempre stata un'espressione della mia vita interiore che significa esperienza di vita, esperienza di incontri, esperienza di preghiera. Altri pensano che io sia stato anche un uomo che ha parlato spesso e forse troppo e spesso di politica. Non lo so. So solo che un cristiano, un cittadino, debba compiere i propri sforzi in modo anche serio per vivere bene secondo la propria età e le proprie possibilità. Ecco perché ho espresso sempre le mie opinioni. Ritengo fondamentale non essere condizionati solo dalla televisione e non aver paura ad esprimere le proprie opinioni. Non è bello ripetere solo quello che altri vogliono che si pensi e si dica. Se voglio essere un uomo o donna, serio e seria, bisogna esprimersi in maniera opportuna dopo attenta riflessione. E se lo ritieni opportuno, anche dopo aver pregato. Non possiamo essere liberi interiormente se crediamo solo nei soldi, al potere e alla bella vita ad ogni costo. Avrei anche tante altre cose da dirti, ma penso di essermi presentato a sufficienza. Ora, ti lascio alla lettura in mia compagnia. Questo brano è liberamente tratto da miei cari amici. Lettera circolare agli amici iscritta nel 1963. Grazie. Rav Somek della Comunità Ebraica Buonasera a tutti e grazie dell'attenzione che ci dedicate. C'era molto subbuglio quel giorno in cielo. La creazione del mondo stava per essere terminata. Alla sesta giornata di un intenso lavoro, quasi ogni cosa era al suo posto. L'opera si presentava come un magnifico baldacchino nuziale. Mancavano solo gli sposi. Quella mattina, il Santo Benedetto convocò una riunione degli angeli del Divino Ministero. Che ragione avrebbe avuto di consultarsi con i suoi attendenti? Egli è l'autorità per eccellenza, la mente superiore che tutto sa, tutto governa, tutto vede e prevede. Il Padre Eterno vuole lasciare qualche importante insegnamento a noi uomini, assai meno perfetti di Lui. Anzitutto, mai deliberare da soli. Impariamo il dovere di consultarci prima di assumere qualsiasi importante decisione. Non solo, se Dio si concerta con gli angeli, pur non avendone necessità alcuna, anche noi dobbiamo prendere consiglio dai nostri collaboratori, ancorché siano inferiori a noi gerarchicamente, perché ciascuno ha qualcosa da insegnare. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Questo era l'ordine del giorno della riunione. Un progetto impegnativo. Gli angeli avrebbero dovuto ora abituarsi a un concorrente sulla Terra e ciò li esponeva, persino loro, a manifestazioni di gelosia. Come ci si aspettava, essi si divisero in due partiti e cominciarono a discutere con vehemenza. Non tutti erano entusiasti della proposta. Alcuni si espressero a favore, mentre altri erano visibilmente contrari. Come dice il versetto dei salmi, La misericordia e la verità si sono affrontate, la carità e la pace si sono attaccate. La misericordia disse, si crei pure, perché l'uomo è di natura misericordioso. Ma la verità, diceva invece, non si crei perché sarà tutto falsità. La carità allora disse, si crei perché l'uomo si dedicherà a compiere opere di bene. Ma la pace, rispose, non si crei perché saranno liti a non finire. Si sa, noi esseri umani siamo sia costruttivi che distruttivi. Siamo nati per cooperare e per competere. Da un lato, la vita è una lotta per accappararci risorse relativamente scarse e per questo siamo pronti a combattere e a uccidere. D'altronde, sopravviviamo solo in gruppi. Se non coltivassimo ideali di collaborazione, altruismo e fiducia nel prossimo, non avremmo speranza. Per questo, la Bibbia dichiara non è bene che l'uomo sia solo. Cosa fece allora il Santo Benedetto? Prese la verità e la gettò a terra. Gli angeli allora protestarono, tu disprezzi il tuo sigillo. Si deve infatti sapere che Dio si firma sempre scrivendo verità. Le ultime tre lettere dell'espressione ebraica Bereshit, Barah e Lokim, in principio Dio creò, formano la parola Emet, Alef Mem Tav, verità. Alef Mem Tav, incidentalmente, sono la prima, l'ultima e la lettera mediana dell'alfabeto. La verità è quella che riesce ad abbracciare tutti. Fu allora dato ordine, si rialzi la verità dalla terra. come è detto in quel famoso salmo, Emet Me Eretz Tizvach, la verità germoglierà dalla terra. La questione da porre non è data la natura del mondo come fa Dio a esistere, dice il rabbino Sachs dall'Inghilterra, bensì l'inverso, data la natura di Dio come fa il mondo a sussistere, come può Dio che è ancora che è amore mettere al mondo una creatura capace di odiare? Risposta, l'uomo non è in grado di reggere l'esposizione a una verità eccessiva. La realtà è per noi troppo maestosa perché la contempliamo in tutta la sua imponenza. Che l'uomo si limiti pertanto a una verità in formato ridotto, quella che si trova sulla terra piuttosto che in cielo noi percepiamo solo scintille, frammenti di verità come è stato già detto, non di più. Così Dio replicò alle proteste della verità con la V maiuscola. Ma cosa ne fu della pace? Anche la pace si era opposta alla creazione dell'uomo dicendo saranno tutte liti. La storia non ci rivela quale destino sia stato riservato alla pace. Possiamo tuttavia dedurre la risposta ex silenzio. La creazione dell'uomo fu un atto di fede da parte di Dio. Fiducia piena nel mondo che Egli stava creando. Assai più di quanto noi abbiamo fede in Dio, Dio ha fede in noi che impareremo un giorno la lezione della pace. aggredire significa costringere la controparte alla difesa instaurando una spirale di violenza talvolta inarrestabile. Conquistando altri noi non facciamo altro che diminuire noi stessi. Solo nel rispetto reciproco si onora l'immagine di Dio che è in noi. Grazie. Adesso è la volta di Sudhananda della comunità induista che arriva da altare quindi è arrivata si è seduta là in fondo ciao Sudhananda Buonasera Namastia a tutti Io pensando a questa giornata e anche al tema sia di questo incontro di oggi ma anche al tema di un po' generale di Torino Spiritualità ho pensato alla figura del saggio Valmiki che è un saggio che è anche considerato uno dei massimi poeti della tradizione induista perché ha scritto o quantomeno ha scritto a lui il Ramayana che è questa grande epopea questa grande scrittura di insegnamenti Valmiki letteralmente significa il formicaio ma da dove nasce questo epiteto così particolare perché di fatto lui era un bandito nasce anzi nasce come un cacciatore quindi ancora andiamo ancora indietro nelle sue origini nasce in una famiglia di cacciatori e quindi lui cresce come appunto un cacciatore poi si sposa ha dei figli e quindi l'esigenza appunto di dover sostenere la sua famiglia lo porta a fare cosa a diventare un ladro a tutti gli effetti un bandito quindi lui si appollaiava sugli alberi immaginiamoci queste foreste dell'India lui appollaiato sugli alberi appena passava qualcuno lo aggrediva talvolta uccidendolo anche lo derubava e poi tornava a casa con il suo bottino e così riusciva a nutrire a sostenere la sua famiglia questo va avanti per negli anni fino a quando a un certo punto la voce di Dio nella veste di Narada che è questo saggio arriva e gli chiede ma tu come mai fai questo queste opere così compi queste opere malvagie e lui gli risponde perché devo sostenere devo portare nutrimento alla mia famiglia a questa risposta il saggio Nara da allora gli pone un'altra domanda e gli dice ma la tua famiglia è disposta a sostenere il carico di questa tua azione di questo sanscrito diremmo il karma cioè di questa tua responsabilità Valmichi rimane così scioccato da questa domanda inaspettata e quindi si accinge a legare il saggio Nara da un albero affinché non scappasse perché comunque il suo intento era quello di derubarlo e va a casa e pone alla sua famiglia quindi a sua moglie ai suoi figli questa domanda ma voi cosa ne pensate di queste mie azioni condividete con me il peso di queste azioni malvagie e la famiglia madre figli moglie pensando a quanto cosa significasse a quanto dolore provocassero le sue azioni si tira indietro e dice assolutamente no questo provoca in Valmichi uno shock essendo in termini moderni e quindi una grande come dire ripensamento interiore quindi torna dal saggio poverino legato ancora ai me all'albero e gli pone questa domanda ho riflettuto di fronte alla risposta della mia famiglia ho capito il mio errore dimmi per favore istruiscimi sulla strada per la verità per cercare l'essenza della vita e quindi il saggio Nara che gli dice bene ripeti incessantemente quindi recita il nome del Signore in questo caso uno dei nomi del Signore è il Signore Rama lui inizia prova si siede in una posizione meditativa inizia a pronunciare questo nome ma non riusciva non riusciva perché perché le sue ancora i suoi sensi la sua mente le sue azioni erano talmente macchiate diciamo così di colpa di errore che la sua la mente la parola non era pura abbastanza da poter pronunciare il nome di Dio e quindi Narada gli dice bene fai una cosa pronuncia il nome di Rama ma al contrario Mara e Mara vuole dire morte in sanscrito quindi lui si era talmente macchiato di errori di morte in alcuni casi che riusciva solo a dire quello che in fondo aveva fatto fino a quel momento però per un gioco anche proprio della melodia del suono nella ripetizione questo Mara 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 diventa Rama 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 e quindi in questa sua profonda meditazione lui si siede appunto sotto questo albero e vi rimane per tempo indefinibile tant'è che queste formiche piano piano costruiscono intorno a lui questo formicaio e quando il giorno poi a Dio arriva nella forma appunto di Brahma il Signore gli dice bene adesso hai capito sei libero dalle tue colpe hai raggiunto questo stato di verità e gli dà il nome appunto di Valmichi ecco io credo che questa storia poi da Valmichi lui liberatosi da questa sua diciamo da questo suo trascorso da questa sua colpa assiste a una scena molto tragica drammatica se vogliamo dire così perché vede due uccellini due usignoli che erano nel periodo dell'amore e un cacciatore uccide il maschio quindi lui mosso da questo dolore pronuncia un verso che è lo shlokam e shlokam è proprio la metrica con cui Venni appunto poi successivamente scriverà il Ramayana che è una grandissima opera di diciamo un modello diciamo di insegnamento spirituale quindi di via per raggiungere la verità chiudo velocemente con una questa è la storia diciamo che poi lascia a voi le riflessioni e anche gli spunti per come dire andare a fondo ai vari simbolismi però mi piace concludere con un un inno del Veda che parla proprio di questo come dire incentivo di questo sprone andare verso la verità ve lo dico prima in sanscrito e poi ve lo traduco cosa dice Asadoma dall'irrealtà da ciò che non è vero conducimi ti prego alla verità Tamasoma da tutto ciò che è oscuro da tutto ciò che è errore conducimi alla luce alla verità quindi in senso più di luminosità Brityorma quindi dalla morte conducimi all'immortalità pace 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 quindi questo è un verso dell'Eupanishad che lascio e un augurio anche per tutti noi e grazie e adesso Allegro con fuoco di Schumann Grazie a tutti 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 Pastora Valdese Pastora Valdese a tutti Grazie 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 a tutti paese, segno e pegno divino di un nuovo grande futuro di fronte alla totale mancanza di esso. Pensare e agire pensando alla prossima generazione ed essere contemporaneamente pronti ad andarcene ogni giorno senza preoccupazione. Ci sono uomini che ritengono poco serio e cristiani che ritengono poco pio, sperare in un futuro terreno migliore e prepararsi ad esso. Essi si sottraggono nella rassegnazione o in una pia fuga dal mondo alla responsabilità per la continuazione della vita, per la ricostruzione, per le generazioni che verranno. Può darsi che domani spunti l'alba del giudizio universale e allora, solo allora, non prima, deporremo volentieri l'azione per un futuro migliore. Mi è parso un brano che non è famoso ma che ci parla di molte cose che riguardano anche la nostra vita presente. Grazie. Grazie. Elena Seishin Viviani dell'Unione Buddista Italiana. Buonasera a tutti. Allora il Beato disse, o discepoli, anticamente vi fu in questa stessa a Savatti un certo re. Il re un giorno chiamò un suo servitore e gli disse, vai bravo uomo e raduna assieme in un solo luogo tutti i nati ciechi che vivono qui a Savatti. Però come volete, o mio signore, rispose l'uomo che obbedendo all'ordine del re radunò tutti i nati ciechi presenti a Savatti. Fatto questo andò dal re e gli disse, signore tutti i nati ciechi presenti in Savatti sono riuniti insieme. Allora, bravo uomo, mostra a questi ciechi un elefante. Farò come volete, mio signore. Fece come gli era stato detto e quindi disse a ciechi. O ciechi, questo è un elefante. Qualcuno di loro, tastando l'elefante, ne toccò soltanto le zanne e il servo disse, questo è l'elefante. Gli altri tastando l'elefante o la testa o il dorso o il fianco o la coscia. O la zampa anteriore o la coda. A tutti il servo disse, questo è l'elefante. Dopo aver presentato l'elefante ai ciechi in questa maniera, l'uomo tornò dal re e disse, signore l'elefante è stato presentato ai nati ciechi. Il re si ricorda i ciechi e disse ad ognuno di loro separatamente, bene, hai visto l'elefante? Sì maestà. Allora dimmi, com'è fatto l'elefante? I ciechi che avevano toccato la zanna risposero, l'elefante è simile a un timone curvo. Coloro che avevano toccato la proboscita risposero, l'elefante è simile a un palo. Coloro che avevano toccato la testa risposero, l'elefante è simile ad un orcio. Coloro che avevano toccato il dorso risposero, l'elefante è simile a un colle. Coloro che avevano toccato il fianco dissero, l'elefante è simile a un muro. e chi aveva toccato la coscia rispose l'elefante è simile ad un albero quelli che avevano toccato la gamba anteriore risposero l'elefante è simile ad una colonna coloro che avevano toccato la coda risposero l'elefante è simile ad una scopa quindi i ciechi cominciarono a disputare tra di loro gridando tutti si accusavano a vicenda si accusavano di aver torto gli uni dicevano è così gli altri replicavano no non è così e continuarono finché non giussero a picchiarsi di santa ragione il re non poteva fare a meno di divertirsi a tutta quella scena e poi disse i ciechi dalla nascita più riuniti disputano tra loro e litigano il corpo dell'elefante è per sua natura unico ma le percezioni differenti hanno provocato questi errori divergenti discepoli è la stessa cosa per le diverse dottrine degli asceti erranti ciechi non vedenti ignoranti di ciò che è vantaggioso ignoranti di ciò che è dannoso essi non conoscono affatto il dharma ciascuno di loro ha un'opinione diversa da quella degli altri ciascuno pretende di avere ragione e vengono così alle dispute e alle liti i religiosi brahmani che possono conoscere secondo realtà la verità del dolore dell'origine del dolore della cessazione del dolore e del sentiero che conduce alla cessazione costoro pur riflettendo isolatamente sono tutti d'accordo vennero la legge insegnata dal Buddha e rimangono a lungo nella felicità della quiete gli ignoranti sono di natura litigiosi rissosi e disputano ognuno sostenendo che le cose stanno così o così e il Beato concluse con queste parole come vari monaci e brahmani sono attaccati a teorie diverse così immersi nei loro bisogni particolari litigano gli uomini che vedono un solo lato della realtà solo a chiusa di questa parabola è tratto dal Tripitaka dal canone buddista mi sembrava di rispettare più che parlare delle vite di ricerca Buddha Siddhartha è sicuramente l'esempio della ricerca per antonomasia penso che qualcuno conosca la sua storia ma è molto interessante il tipo di approccio il tipo di approccio alla verità non viene mai detto questa è l'unica verità viene detto invece c'è un'unica verità ed è a seconda di come noi la affrontiamo quindi dobbiamo tener conto che nel cercare la verità abbiamo attaccamenti abbiamo categorie abbiamo punti di vista assolutamente diversi uno dagli altri ma ciò non toglie il fatto che la verità sia una è solo il nostro modo di vedere questa ignoranza questa cecità che è costitutiva per l'essere umano avvidia si dice che significa non avere una visione delle cose questa parabola viene naturalmente una parabola perché Buddha insegnava come come non tanto cosa ma come quindi il buddismo noto per essere una tradizione religiosa e un ortoprassi fondamentalmente insegna questo chiudo solamente ricordando quello che è stato e ha siglato diciamo l'insegnamento la ricerca di un uomo perché Buddha Scecchiamone Siddhartha era un uomo come noi al suo diciamo prima di morire ai suoi discepoli disse monaci non tenete conto di quello che vi ho detto non seguite nemmeno quello che io vi ho insegnato finché ognuno di voi non lo sperimenterà da solo siate luce a voi stessi grazie bravissimo e concludiamo con il cigno di sensei grazie a tutti 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 grazie a tutti